uno scoop dell'ultimo minuto lo vedete quello lì quella panterina nera che fa lo spavaldo è scappato fuori di casa avevo dimenticato una finestra aperta in studio di sera lui è nero non lo vedo mi scappa tra le gambe è una biscia che è imprendibile veramente un'anguilla andiamo di sopra c'era il nonnino c'era lucio tutta il nostro la nostra solita routine chiama 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 mosi non c'è chiama 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 gira dappertutto mosi non c'è poi mi è venuto il lampo di genio dico va a finire che ho lasciato la finestra aperta in una camera dell'ufficio vuota per cambiare un po' aria che sta sempre chiusa lui si è infilato lì si è buttato dall'altra parte nel cortile della banca al che per fortuna vieni qui sai delinquente monello l'ho visto e ho dovuto suonare per farmi entrare perché c'erano tutti i cancelli capito che lui ci passa io no sono andata dentro lui mi guardava e non veniva e piangeva mi mi dico ma vieni qua imbezzel mosi non fare il cretino per fortuna che non è tanto freddo stasera mi guardava dall'altra parte delle sbar mi agolava poi faceva un giretto si allontanava non è possibile insomma dai tutto è bene quel che finisce bene ma lui è diventato un gran monello